Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario è dedicata alla vicenda che interessa un operaio della SMIM Impianti. Da ieri per protesta si trova arrampicato su una putrella all'interno della ditta industriale in contrada piana del Signore. Minaccia di gettarsi se non avrà risposte immediate sugli arretrati da percepire e sul suo futuro. Non lavora da gennaio e non percepisce né salario né cassa integrazione da otto mesi, cui si aggiungono poi una tredicesime, due quattordicesime non pagate. Vediamo. Ha trascorso la notte arrampicato su una delle putrelle che reggono il tetto del capannone industriale della SMIM Impianti in contrada piana del Signore. Minaccia di buttarsi se non avrà risposte immediate sugli arretrati da percepire sul suo futuro. Lui è Matteo Guerrieri, 45 anni, nisce mese, sposato e padre di tre figli. Non lavora da gennaio e non percepisce né salario né cassa integrazione da otto mesi, cui si aggiungono una tredicesima e due quattordicesime non pagate. Guerrieri ha messo in atto il suo gesto ieri dopo pranzo. Sul posto sono accorsi molti colleghi di lavoro, la polizia e un'ambulanza. I vigili del fuoco hanno collocato a terra un grande materasso pneumatico. La bambina, sono arrivata a casa, mi fa ieri, ma te l'hanno dato il lavoro? Hai trovato qualcuno che ti ha dato il lavoro? Qualcuno che ti ha fatto guadagnare i soldini? Ma perché domani c'è la recita, dobbiamo pagare la sarta perché dobbiamo fare il vestitino della recita, lei si rende conto che mi aveva spostato in faccia, avevo perso la dignità di uomo, di padre, di lavoratore perché non c'è lavoro, non c'è soldi. Le banche mi chiamano che vogliono i soldi perché purtroppo oggi sto fatto, essendo che prendevo un vestimento di 2100 euro al mese, ho rifatto caso, ho sistemato le camerette dei bambini che non avevano neanche le camerette dei bambini e dormivamo 5 in una camera, io ho messo un po' di debito, ho fatto quasi 40 mila euro di spiega e lei vuol dire che le banche mi stanno salendo addosso, fra poco non so se si dovranno a prendere i mobili, se si dovranno a prendere la cameretta dei miei bambini, si mettono nei miei bambini, ma in questa cosa viviamo? Dove viviamo? La SMIM impianti, come tante altre ditte dall'indotto giulese, è ferma con 110 dipendenti in mobilità e 18 in cassa integrazione a seguito della chiusura della raffineria che, abbandonata la lavorazione del petrolio, attende di essere riconvertita nella produzione di biocarburanti. Intanto Cigelle e Cisle Will hanno ottenuto la convocazione della SMIM impianti per domani alle 17 in prefettura. Il sindacato ribadisce l'esigenza di porre fine ad un comportamento lontano dal mondo del lavoro da parte delle istituzioni politiche regionali che avevano e hanno il dovere di dare risposte chiare e nette in riferimento a tutte le misure di sostegno al reddito. Così come l'Eni deve assumere un comportamento leale con la città, se i cantieri sono stati viati e gli appalti affidati, tutto deve essere visibile e quindi riscontrabile. E domani alle 11.30 nella sede della raffineria Eni di Gela, i vertici del Cana Seizampe presenteranno la nuova Green Raffinerie. L'incontro sarà l'occasione per illustrare dettagli del progetto di riconversione della raffineria ciclo tradizionale in Green Raffinerie per fare il punto della situazione sullo stato di avanzamento dei lavori. A soli due mesi da rilascio delle autorizzazioni della prima fase, le attività procedono speditamente in linea con il programma previsto nel protocollo di intesa. Durante l'incontro si fornirà un aggiornamento delle altre attività previste nel protocollo che analogamente alla Green Raffinerie sono in linea con il programma. Interverranno Salvatore Sardo e Luigi Ciarrocchi, responsabile Eni del programma Gela. Un incendio divampato per cause non ancora accertate è investito la notte scorsa il grande canneto che si estende lungo la zona sud della collina prospicente, il porto rifugio di Gela. Per due ore fumo e fiamme hanno reso la zona impraticabile. Chiuse totalmente porte e finestre. Gli abitanti del quartiere hanno temuto che da un momento all'altro l'area potesse essere evacuata. I vigili del fuoco del distaccamento di Gela però sono riusciti a circoscrivere il rogo per poi domarlo dopo un lungo lavoro necessario anche per spegnere ogni ulteriore focolaio. A parte qualche fastidio respiratorio non ci sarebbero feriti sull'episodio. Adesso indagano le forze dell'ordine. Adesso parliamo della festa dei carabinieri. L'arma ha infatti spento 202 candeline. Vediamo. Esserci per impedire di dover esserci un giorno di più. Lo riassume così il comandante provinciale dei carabinieri Gerardo Petitto il suo primo anno di attività a Caltanissetta durante la cerimonia che ricorda i 202 anni dalla fondazione dell'arma dei carabinieri. La capacità preventiva di sventare un furto in abitazione, un raid vandalico, il fenomeno dei furti di rame e il progressivo svuotamento dei centri storici sono solo alcune delle attività svolte nell'ultimo anno dai militari del Nisseno che si sono riuniti nel cortile interno della caserma Guccione per festeggiare l'impegno portato avanti dall'arma, nei secoli fedele, come recita il motto creato nel 1914 in occasione del suo primo centenario. Per noi è un momento di raccolta della gente per esprimere che noi ci siamo, semplicemente questo. Noi siamo nati con questa nazione, ne siamo nati prima, l'abbiamo accompagnata dove è adesso e intendiamo riaffermare la nostra presenza e la nostra vicinanza alla gente. Com'è stato questo anno? È stato intenso ed esaltante, esperienza del tutto nuova per me che non sono siciliano, non avevo mai fatto servizio in Sicilia e proprio per questo è ancora più profonda e piacevole, istruttiva. Quali sono state le attività che hanno visto più impegnati i militari? L'arma dei carabinieri, essendo forze di polizia a competenza generale, pur nelle varie specializzazioni, noi cerchiamo di essere adattabili e flessibili, per cui non ci sono state attività che particolarmente ci hanno preso rispetto ad altre, però c'è tutto un ventaglio di attività, io dico sempre, qualche volta anche anonime e di scarso rilievo, ma che costituiscono poi questo strumento di rassicurazione sociale per la gente. E a quali si riferisce in particolare? Alla presenza, ai reati che non sono mai stati commessi e alla vicinanza che noi dimostriamo alla gente e la gente dimostra a noi. 17 gli encomi consegnati dalle autorità civili e militari presenti alla cerimonia, ai militari che si sono contraddistinti per il loro intuito investigativo nella lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata. Il ricordo dei caduti uccisi durante il loro servizio e la preghiera dell'arma hanno poi concluso la 202esima festa dei carabinieri. Domani alle 18 si terrà la celebrazione del 199esimo annuale del Corpo della Polizia Penitenziaria, appuntamento presso l'Istituto di Pena di Contrada Balate a Gela. Secco? No da parte del gruppo consigliare di Reset 4.0 al progetto di estendere la sosta a pagamento sul lungomare Federico II di Svevia a Gela. I consiglieri Luigi Di Dio e Francesca Caruso chiedono al sindaco Domenico Messinese di concertare soluzioni alternative con gli esercenti della zona. Noi siamo contrari alle strisce blu sul lungomare, dicono è impensabile che l'amministrazione faccia cassa creando posti di lavoro precari e vessando i cittadini, tassandoli pure per trascorrere qualche ora di relax sul nostro lungomare. Così si danneggiano i pochi operatori commerciali che sono rimasti, piuttosto di pensare a come fare cassa si pensi a come poter rendere più confortevole il nostro lungomare, magari con una passeggiata serale e l'isola pedonale assieme a servizi per allietare i nostri concittadini e pochissimi turisti che raggiungono la nostra città. Siamo pronti al dialogo con l'amministrazione per migliorare la qualità dei servizi della nostra città ma chiudono di Dio e Caruso. Siamo contrari ad interventi mirati a svenare i gelesi che stanno vivendo un periodo di crisi mai visto fino ad oggi. Un uomo amato, chiamato e inviato è il tema della mostra dedicata a Frarocco Quattrocchi che si tiene nei locali della Salone Parocchiale della Chiesa Maria Santissima delle Grazie di Gela in occasione del primo anniversario della scomparsa della saggiordote gelese. La mostra ripercorre il cammino francescano di Frarocco Quattrocchi scomparso lo scorso anno a causa di un male incurabile. Attraverso l'esposizione allestita dalla parrocchia di Via Cappuccini di cui era saggiordote si vuole rendere omaggio alla figura del saggiordote tanto amato in città che sposando la regola francescana con lo sorriso e fino alla fine ha lottato per la vita accogliendo il dolore come una grazia. Questa mostra vuoi un po' ripercorrere la vita di Rocco, dalla sua nascita, dall'ingresso in convento, dalla sua vocazione, dal suo essere sacerdote qui tra noi. È stato un modo in cui visibilizzare ancora di più la memoria di Rocco tra i parrocchiani e tra noi come comunità. Credo che lui se lo merita e noi siamo stati contenti di realizzare questa mostra per lui. Cosa vi ha lasciato per Rocco? Guarda, Rocco ci ha lasciato un approfondimento innanzitutto del nostro carisma come avvicinamento al popolo, alla città, il suo modo di essere sacerdote, di essere fratti, un uomo di dialogo, un uomo di pace, molto accogliente, sempre con un bel sorriso in faccia, il volto veramente che risplende del Vangelo. La mostra è stata molto seguita perché molti ragazzi hanno voluto toccare con mano la presenza anche attraverso le foto di Fra Rocco. Sì, perché è stato non solo un ricordo ma un rivivere certi momenti. Rocco è stato il suo sguardo, gli incontri che ha vissuto con tanti parrocchiani, non solo ripercorre la sua vita, ma stare un po' con lui possiamo dire in tutto ciò che ha fatto in questa realtà cappuccina nostra qui a Gela. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 12 giugno prossimo e sarà visibile tutti i giorni dalle 19.30 alle 21.00. Si svolgerà sabato 11 giugno presso la parrocchia di San Sebastiano Martire di Gela il giubileo degli ammalati, dei disabili e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio diocesano. Per l'occasione sarà esposta l'originale immagine della graziosa vergine degli ammalati che ha dato inizio alla devozione della Madonna delle Grazie venerata nella chiesa dei cappuccini di Gela. Il raduno delle varie associazioni di volontariato, evento che accade per la prima volta nella diocesi, inizierà alle 17.30 presso la scuola Fuentes dove le associazioni, ognuno con i propri labari e divisi accoglieranno l'icona della Madonna e il vescovo seguirà il pellegrinaggio giubilare che si concluderà nella parrocchia di San Sebastiano dopo alcune testimonianze di fede, Monsignor Rosario Gisana presiderà la solenne celebrazione eucaristica. E' prevista per domani alle 20.15 nei locali dell'hotel Sileno la riunione di tutti gli esponenti politici di centro-destra. L'iniziativa porta la firma di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale di Gela. Durante l'incontro saranno affrontati tra gli altri i temi che interessano il porto, la sanità e il piano regolatore generale. Evento di chiusura del progetto Navigando a Prodiamo nel Golfo di Gela, la scoperta del nostro territorio, al comprensivo Giovanni Verga, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte e dalla scuola primaria. Il progetto si inserisce fra le attività curriculari programmate nell'ambito del POF e che hanno trovato il necessario sostegno economico nel finanziamento regionale di cui la scuola ha beneficiato. Legati per crescere, sono stati realizzati diversi laboratori, tra cui ceramiche d'arte, Viviamo la città, da protagonisti. Attraverso la storia e l'arconto di miti e leggende, visite guidate al museo e ai siti di interesse storico, archeologico e ambientale, gli alunni sono stati condotti in un viaggio che ha risvegliato in loro l'amore per Gela e che li ha portati a conoscere le radici delle usanze e delle tradizioni locali. I laboratori sono stati tutti ben sviluppati e portati a termine, partendo dal laboratorio della conoscenza diretta, della visita ai siti peculiari e importanti della nostra città per la conoscenza e la valorizzazione degli stessi, rispetto ai quali poi abbiamo proceduto con un lavoro di cucitura e quindi di rappresentazione dello stesso territorio, attraverso la fruizione, quindi la creazione di un nuovo laboratorio di ceramica nel plesso di Via Caviaga e così attraverso un laboratorio di drammatizzazione realizzato appunto dalle classi quarte e quinte, laddove le quarte hanno più valorizzato e approfondito i temi che riguardano il folclore e la tradizione e le quinte invece i temi che riguardano l'ambiente di oggi e quindi l'inquinamento o piuttosto che lo sviluppo economico del nostro territorio. Il tutto ben inserito anche in un'altra cornice che era quella del fare notizia o meglio della trasparenza, quindi rispetto al tema della legalità che è il filo conduttore del progetto. In occasione della giornata di chiusura è stata presentata la stampa del giornale d'istituto Legati per crescere, strumento di narrazione e testimonianza di tutte le attività didattiche curriculari ed extracurriculari sviluppate durante l'anno scolastico sui temi della legalità, della conoscenza e della valorizzazione del territorio, sui valori di un'educazione improntata alla tutela della salute e alla salvaguardia dell'ambiente, ispirata ai valori dell'intercultura, della solidarietà e dell'accoglienza. Giovanissima e con la passione per la musica nel sangue, a soli 15 anni si è giudicata tre primi premi in altrettanti concorsi musicali. È la pianista gelese Sara Casa, allieva del maestro Michele Petitto. Negli ultimi dieci giorni si è giudicata i premi Sera di Falco, Città della Musica, Città di Palermo e il premio internazionale Lucio d'Agata di Acireale. Al concorso di Palermo è stato assegnato a Sara anche un concerto premio. La giovane pianista si esibirà infatti nel capoluogo siciliano domenica 19 giugno alle ore 19. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo parlandovi della giornata sportiva che si è svolta oggi al centro Pignatelli. C'eravamo anche noi, vediamo. Una giornata all'insegna dello sport e del divertimento. Appuntamento questa mattina nel centro Pignatelli. Gli alunni della scuola Antonietta Aldisio si sono esibiti in diverse attività riscuotendo gli applausi e i consensi dei docenti e dei propri genitori. Visibilmente soddisfatto è il dirigente scolastico Adriana Quattrocchi. È un progetto di istituto che ha visto impegnati tutti i ragazzi della scuola, i meno motivati, i più motivati, i meno fortunati, i diversamente abili. È un progetto che ha avuto un ampio respiro perché ha visto l'intreccio di diversi progetti. Oggi è la performance finale, ma le finalità educative che hanno portato avanti, che sono state portate avanti, hanno fatto sì che il bambino abbia un equilibrio psicosomatico, diciamo, si cerca di raggiungere questo equilibrio psicosomatico del bambino, di potenziarlo e di migliorarlo. E ora tutti in vacanza? Tutti in vacanza e sicuramente tutto questo è stato possibile anche a una figura che abbiamo avuto quest'anno che è il professore Catalano, che è un professore di educazione fisica della scuola secondaria, che con l'organico potenziato abbiamo avuto questa opportunità, questa professionalità in più. Le attività sportive in questi mesi sono state coordinate e dirette da Massimo Catalano. Tutti i componenti della scuola primaria, del primo circolo didattico, hanno partecipato con grande entusiasmo a questa manifestazione finale, che non è altro che un modo per raccogliere i frutti di questo lavoro che è stato fatto dalle insegnanti di attività motoria, dal sottoscritto e dai bambini soprattutto in palestra. Non era una manifestazione che aveva un riscontro agonistico, era soltanto un modo per far vedere ai genitori, alle famiglie e comunque a noi stessi il lavoro che abbiamo fatto. Hanno svolto dei percorsi che sono frutto di questo loro impegno durante l'anno e soprattutto l'augurio è che in questi bambini sia stato inculcato l'importanza di fare sport, l'importanza che può avere lo sport nella loro formazione, quindi il rispetto degli altri, il rispetto delle regole, la collaborazione e così via. L'unità operativa di riabilitazione di Via Madonna del Rosario a Gela rimarrà chiusa venerdì 10 giugno prossimo per disinfestazione. Gli uffici riapriranno regolarmente lunedì 13 giugno. Cerimonia di premiazione all'Istituto Comprensivo Martin Luther King della seconda edizione del Premio di Poesia e Giornalismo Anna Maria Ermigiotti, organizzato dalla scuola in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Sicilia, rappresentato per l'occasione dal Vicepresidente Teresa Di Fresco, componente della giuria che ha valutato i 300 elaborati provenienti da tutta l'isola. Un premio dedicato alla giornalista professionista corrispondente da Modica per la Sicilia e collaboratrice della rivista Cult, scomparsa nel 2014 all'età di 53 anni. Il premio di giornalismo e di poesia Anna Maria Ermigiotti è rivolto a tutti gli alunni della Sicilia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per ricordare una giornalista morta prematuramente a causa di un male incurabile. Una donna giornalista che aveva fatto carriera, che si era imposta, che purtroppo, pur avendo voglia di vivere, è morta con grande dignità e grande coraggio. Sicuramente è stato innanzitutto un piacere poter esaminare tutti questi elaborati, di tutti questi volenterosi bambini, ragazzi. In erba sicuramente qualcuno c'è, si è visto qualche seme che un domani potrebbe diventare un fiore, un frutto e chiaramente devono essere seguiti, devono essere seguiti da personale anche competente, perché possano intraprendere una carriera e un domani che possa vederli fra le nostre file degli iscritti all'ordine dei giornalisti. I ragazzini dalla quinta elementare alla terza media sicuramente sono stati molto creativi e hanno trovato grande capacità espressiva. Un premio volto a stimolare la creatività dei giovani e a riflettere sulle problematiche sociali come il femminicidio affrontato da Giuseppe Cuttaia della Quinta B dell'Istituto Comprensivo Leopardi di Licata che ha conquistato il primo posto nella sezione poesie dedicata agli alunni delle scuole primarie della regione Sicilia. Per il primo premio della sezione della poesia ho affrontato il tema della violenza sulle donne. La poesia parla di questa donna maltrattata che rinasce praticamente e infatti la poesia si chiama proprio rinascere. La Croce Rossa italiana in collaborazione con il Ministero della Gioventù presenta l'edizione 2016 di Campogiovani. Aperte le iscrizioni per tutti i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni. C'è tempo fino a domani per consegnare la domanda di partecipazione online sul sito cri.it.it.com Campogiovani 2016 indicando Sicilia 2G e la CL in fase di iscrizione. E' tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui e aver scelto anche oggi la nostra informazione. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.